Amici di Fuglio e le sue ricette benvenuti ecco a voi un risotto semplicissimo e gustosissimo andiamo a prepararlo insieme acqua sul fuoco pezzettone di sedano e cipolla e prepariamo un brodo vegetale adesso prendiamo una pentola olio extravergine d'oliva di quello buono fiamma dolce e iniziamo a scaldare con uno spicchio d'aglio in camicia e facciamo rosolare delicatamente aggiungiamo dei filetti di alici sott'olio e un pizzico di peperoncino fresco e iniziamo a far sciogliere le alici nell'olio caldo tutto a fiamma molto molto dolce una volta che l'alice si è sciolta togliamo lo spicchio d'aglio in camicia e versiamo il riso io ho usato un riso carnaroli perché ha un chicco lungo una polpa soda e rilascia un quantitativo di amido sufficiente per creare una buona mantecatura lo andiamo a tostare la tostatura deve essere leggera il riso deve risultare traslucido non esagerate altrimenti andrete a bruciare i chicchi di riso perfetto la tostatura è fatta andiamo a sfumare con del vino bianco facciamo evaporare l'alcol una volta evaporato l'alcol aggiungiamo la polpa di pomodoro ne aggiungete qualche cucchiaiata e adesso andiamo a salare il brodo appena arriva a bollore il brodo è pronto lo possiamo versare nel riso e iniziamo la cottura la prima volta versate del brodo fino a coprire e iniziate la cottura il brodo deve sempre bollire in maniera tale che non fa perdere il bollore al riso in cottura aggiungiamo adesso i capperi e continuiamo la cottura girando sempre di tanto in tanto appena il riso si asciuga aggiungete qualche mestolata di brodo adesso andiamo a sbriciolare dei taralli all'olio di oliva li sbriciolate in maniera grossolana tritate anch'esso in maniera grossolana del prezzemolo e mescolate il tutto questo servirà per la decorazione finale perfetto ritorniamo ai fornelli il nostro risotto è quasi pronto vedete com'è cremoso lo spegnete e lo andiamo e ci andiamo a mettere del filo di olio extravergine d'oliva del parmigiano copriamo e lo facciamo riposare per circa un minuto un minuto e mezzo dopo un minuto e mezzo questo modo il i sapori che andranno ad amalgamare andiamo a mantecare il riso vi ricordo va servito all'onda che vuol dire che quando muovete la pentola deve simulare le onde del mare in questo modo perfetto lo girate ancora un po per asciugare gli amidi e renderlo cremoso adesso prendete un bel piatto piano possibilmente bianco versate al centro delle mestolate di risotto in questo modo adesso la mano il palmo della mano sotto al piatto e lo fate coricare a specchio nel piatto perfetto adesso andiamo a finire con il tarallo sbriciolato insieme al prezzemolo tritato eccolo qui il nostro risotto pomodoro alice e capperi con tarallo sbriciolato al prezzemolo è pronto non ci resta che andarcelo a gustare ancora caldo non mi resta che salutarvi vi invito a seguirmi nei miei canali social iscrivetevi al mio canale youtube visitate anche il mio blog di cucina www.fulveresuricette.it ciao a tutti alla prossima ricetta